Stiamo presentando adesso una parte anche nuova, una capsula all'interno della collezione che è dedicata al mare, il mare Uomo. Quindi abbiamo introdotto i primi sette articoli nella pitch che sono dei box da bagno, nelle tinte unite e nelle colorazioni e anche nelle fantasie e poi abbiamo introdotto anche un telomare tutto in jacquard, molto raffinato per gli uomini che adesso sono molto ambiziosi. L'abbiamo introdotta un po' di anni fa, poi l'abbiamo un po' fermata perché i tempi non erano forse ancora maturi, l'abbiamo rintrodotta molto bene poi con un'affascinante struttura in ferro che potrebbe essere anche una nuova struttura per i punti vendita. Siamo riusciti a farla molto bene, anche perché mancava, mancarà ancora qualcos'altro perché magari l'anno prossimo introdurremo magari delle ciabattine mare o delle borse anche da mare. La nostra filosofia è vestire un uomo abbastanza intraprendente, io dico sempre che il nostro prodotto vale per un ragazzo di 18 anni ma vale anche per un signore di 60 perché è molto trasversale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.